La firma digitale è un valido strumento in grado di snellire i processi garantendo notevoli risparmi in termini di tempo e costi. Aruba, leader nel mercato dei Trust Services e partner tecnologico per la digitalizzazione delle aziende, propone soluzioni personalizzate alla clientela business che desidera intraprendere un percorso di digitalizzazione dei propri processi. Tra i servizi business di Aruba citiamo ad esempio la firma automatica massiva, specifica perché ha bisogno di sottoscrivere in maniera automatica grandi quantità di documenti. Il sistema è basato sulla tecnologia SB, Aruba Security Box, che garantisce le performance necessarie alla gestione di un elevato volume di documenti, un notevole risparmio in termini di tempo. La firma grafometrica, che si basa su un processo capace di associare ad un documento elettronico un sistema di dati ottenuto attraverso una tavoletta grafica, con cui vengono rilevati e digitalizzati sia l'immagine grafica della firma apposta, sia vettori grafometrici come pressione, velocità del tratto grafico, accelerazione, ritmo e movimento, simulando una comune firma autografa. Le soluzioni personalizzate di Aruba, con l'aiuto dei nostri consulenti specializzati, ti consentiranno di richiedere configurazioni specifiche, in base alle tue necessità, ed integrate con i tuoi sistemi aziendali, tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Vuoi saperne di più? Visita il sito pecc.it